La Cavese è inarrestabile, al Simonetta Lamberti la capolista del Gironi H supera 4-1 il Francavilla Insini e mette insieme la sesta vittoria consecutiva nel 2023, i campani non hanno mai perso in campionato, una striscia positiva lunga ormai, 14 partite, chiari messaggi ai diretti concorrenti per la vetta, partita praticamente a senso unico che nel primo tempo comincia subito con un'occasione per gli uomini di Troise, Munoz sfonda sulla destra, azione che si sviluppa Banegas conclude e centra il palo, poco dopo a rendersi pericoloso è capitano Altobello di testa, sfera sul fondo di non molto, Cavese che insiste e al ventesimo trova il vantaggio difesa del Francavilla Insini, sorpresa dall'inserimento di Munoz, superiorità numerica, palla Gagliardi per la rete che sblocca il match, 1-0, 4 minuti dopo i campani festeggiano ancora, passaggio a tagliare l'aria piccola di Bad Zone, sbuca le spalle di tutti i Bubas per il 2-0, partita che sembra già chiusa, ma al 43esimo i Lucani reagiscono e trovano la rete del 2-1 con il solito Nolè, dopo un bello scambio con i compagni, si va così al riposo, nel secondo tempo il canovaccio del match non cambia, pronti via e Banegas tutto solo in area calcia alto, incredibile occasione, poi al cinquantesimo Pinna tiene troppo il pallone, se lo fa soffiare Banegas entra in aria e viene atterrato da esposito, calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore ospite, dal dischetto c'è lo stesso Banegas che si fa ipnotizzare da Maione, conclusione di spinta, ribattuta, ancora Maione che salva il punteggio, il Francavilla Insini non riesce però a reagire subendo l'inferiorità numerica, Banegas ci prova col sinistro al lato di poco, poi all'ottantatresimo si fa perdonare l'errore dal dischetto, realizzando il 3-1, difesa lucana non impeccabile nell'occasione, in pieno recupero il numero 10 Campano sigla anche il 4-1 che fa calare il sipario sulla partita, doppietta per l'argentino classe 92 Si torna in campo il 16 aprile, Cavese attesa dalla trasferta di Casarano che potrebbe significare molto per blindare il primo posto, squadra di Lazic ancora in cerca di punti salvezza, prossimo impegno al vicino di Gravina per i Lucani, la vittoria manca da 5 incontri